so bene per esperienza che ci sono alcuni medici e anche alcuni psicologi i quali nutrono delle perplessità nei confronti dell'ipnosi mi viene sempre da dire forse non hanno mai letto l'ansett cioè la più antica importante autorevole rivista scientifica medica del mondo la quale dell'ansett il bisturi significa esattamente ha sempre trattato la ipnosi con grande attenzione e serietà qui ci riferiamo alla ipno tecnica scientifica quella che secondo la formulazione tipica di una rivista seria come appunto l'ansett è basata sugli evidence based contro le trials cioè sulle verifiche controllate basate sull'evidenza cioè fatti di scontri clinici solidi e sicuri so bene che esiste anche una ipnosi un po cialtronesca o anche semplicemente dilettantesca in giro ce n'è molta questa è comunque anche interessante ma insomma non è quella che interessa propriamente a noi e quindi ci riferiamo sostanzialmente alla psicotecnica ipnotica seria di cui io mi trovo di fatto essere un po è il portavoce in certo modo e che per mia di cui sono molto orgoglioso da avere anche l'ansett come compagno di strada nell'arco dei due secoli in cui l'ansett si è occupato dell'ipnosi termini usati sono cambiati come tutta la storia dell'ipnosi si è passato da mesmerism a magnetismo a finalmente ipnotis dalla seconda metà dell'ottocento questa che adesso vediamo è una rapida cavalcata attraverso alcuni elementi e gli articoli che trattano dell'ipnosi che fanno riferimento all'ipnosi su un asset in questi due secoli sono stati centinaia noi ne vediamo qualcuno giusto come esempio nell'arco del tempo quindi con dei grandi balzi giusto per vedere qualche cosa che ci aiuta a capire quanto l'ipnosi e la medicina vadano un po assieme la storia dell'ipnosi la storia di lens la storia della medicina abbiano proceduto parallelamente con grande rispetto per quanto riguarda tutti i dettagli gli approfondimenti riferimenti bibliografici precisi rimando al manuale completo di ipnosi dove tutto questo viene trattato molto più ampiamente qui voglio solo presentare una sintesi esemplificativa soprattutto per quei medici e per quelli psicologi che forse avendo letto un po troppo distrattamente delle set mantengono ancora delle perplessità vediamo dunque molto rapidamente questa storia dell'ipnosi e di lens et insieme 1829 è il primo articolo ufficialmente dedicato all'ipnosi si intitola come l'uso del tempo mesmerism non ha un firmatario esce anonimo precisamente il 20 giugno del 1829 ed è firmato probabilmente è stato scritto probabilmente da thomas wakely che è l'inventore ideatore e direttore di lens et per tutto il primo periodo della sua storia sono i primi anni dell'esistenza di questa rivista già allora molto autorevole e subito compare il l'ipnosi o mesmerismo 1837 abbiamo due articoli sempre per fare degli esempi che sono tv di william wood e che compaiono per presentare mesmerism in london è il titolo di 1 mesmerism university college hospital cioè articoli per descrivere quanto sia diffusa al tempo siamo 1837 in ambiente medico la ipnosi e più in particolare per ricordare come questa fosse presente alla london university dove specie grazie a elliotson la ricerca all'intervento la clinica ipnotica è solidamente presente nella facoltà di medicina per formare i medici 1838 una precisazione di herbert maio il quale precisa magnetismo animale o mesmerismo e sviluppa questo tema passiamo al 1847 in questa rapida cavalcata ed ecco che vediamo che anche su the lens si riflette il tema per cui essendo stata appena utilizzata in modo più specialistico lettere per produrre la anestesia in sala chirurgica si nota che ci sono delle continuità la ipnosi era stata ampiamente utilizzata in anestesia chirurgica all'epoca soprattutto in ambiente inglese c'è tutta una serie di personaggi che lo hanno fatto e quindi si nota che c'è molta continuità tra questi due modi in effetti finirà vincere lettere e si userà molto più spesso anche se tuttora talvolta si usa l'ipnosi come un estetico si userà molto più spesso lettere in medicina in chirurgia che non l'ipnosi andiamo un grande balzo in avanti ma giusto per capirsi per notare 1906 abbiamo ben tre articoli nello stesso anno di tipo sperimentale la ipnosi è sempre stata presente sul aspetto nella dimensione clinica di lens et a questo punto ecco che subentra un tentativo di approfondire giustamente anche aspetti sperimentali quindi abbiamo due articoli di hash e uno di o'brien tutto sugli esperimenti dell'ipnosi i modi per indurla e altri esperimenti ancora per capire meglio la natura dell'ipnosi facciamo un altro basso in avanti al 1915 1916 è un momento molto importante perché è proprio sull'anset che mayers quello che rilanciando il modello francese di jeanet della rivisitazione del trauma originario in stato ipnotico per far superare quello che viene detto lo shell shock cioè la nevrosi di guerra letteralmente shell shock e la lo shock da granata oggi si chiamano disturbo post-traumatico da stress ptsd e mayers pubblica che quello cui si dà ufficialmente un medico dell'esercito inglese a cui si attribuisce ufficialmente la rinascita di questa metodologia da allora ad oggi si usa tuttora normalmente questa tecnica nell'esercito inglese americana così via appunto nel 1915 16 due contributi fondamentali nel rilanciare questa tecnica vengono appunto pubblicati da l'anset 1936 questo giusto per vedere singoli esempi ripetono e potremmo prendere decine di altri ma giusto per capirsi 1936 burni pubblica un articolo sull'impiego dell'ipnosi per affrontare un caso di anoressia purtroppo non è semplice usare l'ipnosi per l'anoressia nel senso che a volte funziona ea volte no in questo caso ha funzionato e quindi l'asset giustamente lo ripropone salto in avanti al 1958 giusto per avere un altro esempio ed ecco abbiamo un articolo sul trattamento dell'asma e della febbre da fieno con l'ipnosi l'ipnosi non si utilizza per cercare di combattere direttamente l'asma e me ma per ridurre tutti i timori le ansie che si accompagnano a chi ha questo grave problema di conseguenza si riduce la preoccupazione e tendenzialmente si riducono anche gli attacchi di asma quelli o perlomeno quella specie di spirale di terrore e paura della paura che peggiora in è la situazione giustamente l'asset registra e promuove questa constatazione clinica 1959 ecco qua che abbiamo un altro classico dell'ipnosi cioè la valutazione di un trattamento delle verruche attraverso l'ipnosi noi sappiamo che non certa per in una certa percentuale dei casi conclamatamente si possono superare almeno alcuni tipi di verruche grazie all'ipnosi e l'enset è pronto rapidamente a registrare rilanciare questo fatto 1976 un uso classicissimo dell'ipnosi cioè l'ipnosi per la endoscopia per poter indagare condurre una prospezione visiva prendiamo oggi che abbiamo delle telecamere molto piccole che si possono inserire in un tubo il tubo va infilato in gola la persona è sempre un dramma per poter condurre un esame ottico del tutto il dotto gastrointestinale ecco che con l'ipnosi si può indurre uno stato di tranquillità e in molte circostanze è possibile avere una osservazione endoscopica serena senza effetti collaterali e rapida quindi ci sono chirurgi che fanno loro personalmente l'ipnosi e la endoscopia l'enset 1976 giustamente tra le mille altre cose che potevamo prendere ho preso quest'altro esempio cosa fa rilancia questa tecnica così interessante 1986 un altro esempio qui si vede molti più autori come d'uso ormai quello contemporaneo però resta il fatto che si utilizza l'ipnosi per trattare il vomito intrattabile ci sono una serie di persone che hanno immediatamente per esempio quando gli si avvicina un apparecchio per un intervento odontoiatrico un riflesso di vomito istantaneo oppure altre persone che hanno una tendenza a vomitare senza che si riesca a controllare un caso particolarissimo è quello della iperemesis gravidà non c'è in gravidanza qui l'asset ci propone una verifica clinica del fatto che l'ipnosi può efficacemente intervenire molto efficacemente per contrastare questa tendenza 1988 sempre siamo negli anni 80 siamo molto vicini in sostanza a questa data ed ecco che abbiamo un sempre controllo e trial questo è ciò che interessa a una verifica controllata basata sull'evidenza e abbiamo un caso in cui si previene una dei problemi peggioramenti diciamo della ulcera duodenale anche questo si è visto che ci sono efficaci possibilità di intervento andiamo all 89 ed ecco che questo non riporta il titolo dell'ipnosi cioè la parola ipnosi nel titolo ma è tutto l'articolo dedicato a questo ed è un articolo appunto in cui si dimostra clinicamente col doppio cieco il gruppo di controllo e tutto quanto che nel caso ci siano dei pazienti che devono essere sottoposti al delle operazioni per il cancro al seno è possibile grazie all'ipnosi ridurre notevolmente tutti i disagi gli effetti collaterali negativi che si accompagnano a questa esperienza questo esperimento a questa ahimè intervento chirurgico e me non tanto perché può portare alla salvezza della persona che così anche molto più serena e meno stressata e si ha una convaliscenza anche molto migliore ma su questo è bene vedere l'originale per capirne la ricchezza ecco un altro esempio 1800 1989 confondo i secoli due secoli di vita 1989 riporto anche ricordo un altro articolo del 1984 sullo stesso argomento sempre di lens perché presentano entrambi questi articoli una uno sviluppo clinico controllato della possibilità di utilizzare l'ipnosi con grande efficacia nel caso di quella che viene detta sindrome del colon irritabile ai ds nell'uso inglese dove appunto il lenset ci fa sapere si promuove il fatto che l'ipnosi può risultare molto efficace da questo punto di vista 1996 un articolo sempre tra i tanti che ci ricorda come la ipnosi possa essere particolarmente efficace nel caso dei bambini dove può aiutare molto a ridurre le loro la ansia di questi piccoli e a ridurre il dolore insomma ad aiutarli per il possibile poi abbiamo il 2000 e abbiamo una di nuovo verifica sistematica con un impegno che appunto bisogna andare a vedere l'articolo per notare quanto è solido sul piano scientifico sperimentale in questo tra in questa verifica controllata si vede come la l'uso dell'anestesia anche come unico anestetico in un'operazione chirurgica ma soprattutto come anestetico d'appoggio d'aggiunta permette di ottenere risultati molto migliori con molto minore impiego di farmaci che non di quanto non è quindi minore tossicità per la persona per il paziente di quanto non avvenga con l'uso esclusivo di anestesia chimica insomma gli esempi sono tantissimi abbiamo scorso rapidissimamente un paio di secoli si può scorrere tutta l'anset per vedere quante ce n'è ma abbiamo visto quanto la cosa sia solida e credibile e sostenuta da questa autorevolissima rivista concludiamo dunque questa rapida cavalcata invitando chiaramente a vedere direttamente la rivista l'anset un anno per l'altro tutto sommato che per due secoli ha trattato dell'ipnosi con grande serietà e credendoci e vediamo una alcune considerazioni che sviluppa lakin in un articolo del 1999 quindi poco più di dieci anni fa dove vengono riportati i risultati di una inchiesta che ha condotto per conto appunto dell'asset all'interno delle cliniche mediche soprattutto universitarie degli stati uniti a che cosa che conclusione arriva vediamo le proprio letteralmente una è questa che queste proclamazioni esagerate che vengono fatte queste affermazioni che un po fanfaroni che che vengono fatte ogni tanto dagli ipnotisti dilettanti hanno oscurato i benefici assolutamente provati sta sempre riferendosi ai controlli alle verifiche controllate empiricamente solide di questa tecnica questo lo dicono i clinici medici e di routine cioè quotidianamente si può dire utilizzano l'ipnosi per affrontare il dolore e l'ansia da iniezioni e molte altre condizioni riporta dunque letteralmente l'affermazione di michael nash dell'università del tennessee il quale dice c'è una ricca letteratura scientifica sull'ipnosi che arriva indietro almeno per cento anni in realtà almeno due secoli sappiamo bene anche solo stando al asset ma anche di più utilizzando altre fonti ogni anno ci sono circa 150 150 articoli sull'ipnosi nel giornali scientifici della medicina in generale non si tratta di una di quegli interventi approssimativi grossolani un po confusionari per i quali non c'è mai stata fatta nessuna ricerca sull'ipnosi si è stata prodotta una ricerca enorme migliaia di ricerche sperimentali evidence based contro le trial ricorda ancora altra notazione che la america medica association e altre associazioni mediche negli stati uniti ce ne sono diverse hanno riconosciuto formalmente l'ipnosi come un trattamento medico affidabile un altro elemento che ci viene presentato da david patterson dell'università di washington che si occupa specificamente di persone che hanno avuto delle gravi ustioni purtroppo allora in questo caso ci sono dei grandi dolori che si accompagnano queste patologie a questi traumi e solitamente viene vengono utilizzati grande quantità di morfina per ridurre il dolore e patterson che da nove anni viene finanziato dal n ih per studiare l'uso dell'ipnosi proprio in queste situazioni dice che utilizzando anche l'ipnosi con i loggers che sarebbero i tagliaboschi quelli enormi personaggi che si vedono nei film e che sono un tipo di soggetto che uno magari non pensa pensando l'ipnosi cioè persone assolutamente decise quadratissime e non persone vanescenti come alcuni credono siano un po bamba somma che si possono ipnotizzare facilmente non è assolutamente vero quindi anche persone più che normali e che sono il contrario dello stereotipo della persona che si fa far su hanno ricavato dei notevoli vantaggi dice letteralmente patterson che talvolta per contrastare il dolore legato a queste ustioni si ottengono degli effetti drammatici cioè fortissimi cosa ci dice ancora a conclusione sostanzialmente del del suo articolo della sua inchiesta l'autore ci dice questo che nonostante il loro entusiasmo i clinici che utilizzano l'ipnosi ci mettono in guardia sulla pensare sul sovrastimare i benefici di questa tecnica sottolineano questi autori che l'ipnosi può essere appresa con una certa facilità e può essere usata come uno strumento da quelli che operano nella pratica generale medici naturalmente stiamo parlando di lens e da altri professionisti della salute in particolare dagli psicologi dai e dagli operatori sanitari di diverso tipo però sottolineano e questo è sempre bene ricordarlo e lo fa anche la set in questa sua inchiesta come conclusione che l'ipnosi è un contesto in cui tu fai della terapia non è la terapia in se stessa l'ipnosi è una tecnica non è una disciplina l'ipnosi è una tecnica da utilizzare in medicina e psicologia nelle varie circostanze ma non è che in sé l'ipnosi come alcuni credono sia un modo di fare è una tecnica uno strumento quindi il fatto di usare l'ipnosi non ti renderà un buon clinico tu devi essere già un buon clinico e quando avrà imparato l'ipnosi avrai un risultato anche migliore questa è la sostanza come ci dice per esempio nesce lui dice posso insegnare a uno studente in mezz'ora a uno studente delle superiori a usare l'ipnosi in mezz'ora forse esagero un tantino ma insomma diciamo che si può prendere in pochi giorni bene con una certa serietà l'ipnosi però utilizzare l'ipnosi per scopi terapeutici è tutta una storia quindi conclusione finale definitiva lens ci dice che l'ipnosi è importante che è una tecnica e non una disciplina a sé stante che può risultare utile in molte circostanze della pratica clinica della vita professionale dei medici noi sappiamo anche di psicologi male set parla soprattutto i medici come finale voglio ricordare ancora che per approfondimenti sull'argomento rivedere tutto quello che viene citato che ho citato in questa breve presentazione questa breve osservazione di lens et viene riportato con molto maggiore approfondimento e dettaglio nel manuale completo di ipnosi a cui rimando per tutte gli approfondimenti che altrimenti potrebbero sembrare così un po delle quasi delle esagerazioni ma sono tutti documentatissimi nel minimo dettaglio e quindi vi auguro di riuscire a credere anche voi come le set in questa tecnica che non è magica non è risolutiva non è la fine del mondo ma è un eccellente aiuto per chi lavora con le persone con i pazienti con la gente per aiutarli e per sentirsi anche più tranquillo l'operatore stesso